Portiamo sicuramente tutto quello che abbiamo lasciato domenica, portiamo una buona confidenza, tutto quello che è stato di buono fino adesso, non solo domenica ma anche a novembre. Sicuramente lì dovremo essere un po' più cinici, soprattutto nelle nostre uscite, come usciamo dal nostro campo. E niente, limare assolutamente i dettagli che sono quelli che sono sicuro faranno la differenza. Riuscivamo a portare quello che volevamo ma fino a un certo punto della partita. Ora riusciamo a viaggiare punto a punto fino agli ultimi minuti, sono quelli i minuti esattamente focali che l'esperienza ci insegna che dobbiamo un po' limare. Ovviamente andando avanti col tempo l'esperienza e soprattutto, come ho già detto, i dettagli sono quelli che ti portano a quei minuti focali, finali, ad ottenere il risultato che vogliamo. Credo che ovviamente a questi livelli devi dare il meno possibile al tuo avversario in termini di punizioni, di permettergli appunto di entrare nel tuo campo gratuitamente. Quindi credo che da questo punto di vista abbiamo fatto un enorme passo avanti e credo, sono sicuro, bisogna continuare così, se non meglio. Troveremo l'Inghilterra sicuramente determinata. Non ci regalerà niente, ne sono certo. Sarà più concreta, sono sicuro. Loro hanno imparato i loro errori sabato scorso e dal canto nostro dobbiamo riportare tutto quello che è stato buono domenica e, come ho già detto, limare quelle piccole imperfezioni che ci sono sfuggite contro la Francia. Credo che l'esperienza mi abbia aiutato. Sapere che un mio compagno ha bisogno di una mia parola per superare un determinato momento nella partita questo mi fa molto piacere. Grazie a tutti.